L'assistenza ai pazienti con demenza, il chronic care model, esempio replicabile di sanità. I problemi delle demenze in crescita esponenziale pongono problemi assistenziali, sociali ed economici sempre più crescenti. Le stime sono talmente elevate che verosimilmente nessun sistema sanitario di nessun paese al mondo riuscirà a far fronte ai costi che la presa in carico di tali patologie comporta. Il modello prevede una forte integrazione tra medicina generale e specialistica, l'empowerment del paziente soprattutto nelle prime fasi di malattia, il forte sostegno sociale, il sostegno dei caregivers, il tutto modulato e diversificato nelle varie fasi della malattia, essendo i bisogni evidentemente differenziati in base alla gravità delle fasi stesse. È di questo che si discuterà la mezza terme nei prossimi giorni. In due giornate, il 12 e il 13 di dicembre, un incontro in cui sarà presentata la sintesi finale e i risultati di un progetto finanziato dal Ministero della Salute nel 2011, sperimentazioni dei percorsi assistenziali integrati per la prevenzione del decorso dell'Alzheimer sulla base del modello ampliato del Chronic Care Model nell'ASP di Catanzaro. L'occasione prevede due giornate molto intense. Poi il 18 dicembre, una cena di beneficenza chiuderà queste iniziative natalizie per il Centro di Neurogenetica che ha sede a la mezza terme.